Eccoci ancora insieme questa mattina per parlare di Minprendo Italia, questa manifestazione bellissima che ha visto confrontarsi studenti di tutta Italia e anche imprese che hanno creduto in loro per sviluppare progetti che magari avevano nel cassetto e non riuscivano a realizzare per mille motivi, mancanza di personale, mancanza di tempo, mancanza di risorse, mancanza anche della possibilità di seguire progetti complessi. Abbiamo con noi uno dei general manager di FEMA, Pierangelo Scaglia, buongiorno e benvenuto con noi, è venuto dalla Lombardia perché FEMA è l'azienda che ha vinto assieme al team degli studenti questa edizione di Minprendi Italia. Parliamo innanzitutto del tipo di azienda, intanto complimenti perché sono stati bravi i ragazzi ma sarete stati bravi anche voi a creare un ambiente dove loro hanno potuto sviluppare il progetto. Beh, prima di tutto sono stati bravi i ragazzi insomma perché comunque hanno vinto loro, sono stati bravissimi, si sono impegnati tantissimo. Anche perché diciamolo subito, il progetto che gli avete affidato non era per niente facile, solo il titolo fa un po' impressione, lo sviluppo di nuove valvole criogeniche. Sì, non era assolutamente facile, soprattutto poi non era facile svilupparlo in un tempo così breve come è stato imposto dal progetto Minprendo che sono stati sei mesi e sono stati sei mesi molto impegnativi considerando poi che c'era anche agosto, insomma i ragazzi hanno fatto anche loro le ferie, quindi si sono impegnati tantissimo, hanno lavorato veramente tanto e quindi bisogna dire soprattutto grazie a loro, sono stati bravissimi. Ecco, siamo un'azienda che si occupa di sviluppo proprio di valvole di sicurezza sostanzialmente. Sì, noi facciamo valvole di sicurezza per il settore della criogenia ma anche altri tipi di valvole e il progetto Minprendo è arrivato in un momento dove noi avevamo deciso da punti strategici di cambiare un po' la nostra faccia, di rivolgersi al mercato mondiale, di andare verso questi nuovi mercati dove servivano altri tipi di prodotto e uno di questi prodotti era questa valvola un po' particolare. Quindi l'avete subito vista come un'opportunità questo concorso o come l'avete conosciuto? Qual è stato il primo impatto? Ma diciamo che io l'ho conosciuto tramite un'email della Confindustria ma direi che è arrivata l'email, è arrivata il momento giusto. Ah, come spesso accade. Come spesso accade, esatto. In quel momento io stavo cercando, noi avevamo sviluppato tutta una serie di prodotti, stiamo lavorando tantissimo, quindi non avevamo risorse assolutamente disponibili. Per questo prodotto abbastanza complesso che coniuga la meccanica, la fluidodinamica e l'elettronica insieme. Quindi, insomma, tematiche abbastanza importanti. E non eravamo tutti impegnati e già pensavo di rivolgermi comunque all'università per avere un supporto. Poi è arrivata questa opportunità e mi sono iscritto a questo progetto. Poi quando ho visto i concorrenti mi sono un po' preoccupato perché i nomi erano piuttosto importanti. Noi siamo una piccola azienda. È vero che facciamo parte di un gruppo industriale italiano più grande, il gruppo VRV di Ornago, ma noi comunque siamo un'azienda piccola, insomma. Però poi abbiamo trovato questi quattro ragazzi bravissimi che hanno accettato... Li avete selezionati voi, questi li avete incontrati. Quanti ragazzi avete incontrato prima di selezionare quelli giusti? Cinque o sei ragazzi, i quattro che abbiamo scelto erano abbastanza ben calibrati. C'era un esperto di elettronica, un esperto di meccanica, uno di fluidodinamico, matematico. E poi c'era una ragazza, un futuro ingegnere civile, che coordinava il tutto. Ed è stata bravissima, Roberto. Quindi complimenti a tutti. Però diciamo che, ritornando al discorso, è arrivato il momento giusto perché in quel momento a noi serviva veramente il supporto, un supporto esterno. L'azienda non era in grado, non aveva le risorse umane per farlo. E quindi quando abbiamo selezionato il team abbiamo iniziato a lavorare. Devo dire che qui c'è stato un episodio abbastanza, diciamo, curioso. Perché io nella mia preselezione dell'università, tramite un amico, avevo avuto il nome di un professore universitario esperto di valore di regolazione, il professor Stefano Malavasi, che mi aveva detto di contattarlo perché era un esperto. Poi, quando abbiamo incontrato i ragazzi, ho chiesto, ma da chi avete saputo di questo progetto di imprendo? E loro ho detto, ma il nostro professore di fluidodinamica, il professor Stefano Malavasi, ha detto che potrebbe essere un progetto interessante. A questo punto è stato chiaro che ho dovuto coinvolgere anche... Il destino. Esatto, il destino è stato... E ho coinvolto anche il professor Malavasi che, onestamente, poi ha veramente ci ha dato una grossa mano. E sono contento di aver sentito il dottor Paoletto che l'anno prossimo, comunque la prossima edizione, coinvolgerà molto di più l'università. Secondo il mio modesto parere, insomma, l'università ha aiutato parecchio anche i ragazzi proprio a coordinarli. Quindi direi che sarebbe molto più difficile nei prossimi anni vincere un progetto come quello che mi imprendo, perché se l'università partecipa sicuramente ci saranno progetti interessanti. Aumenta la sfida tra competizione e anche tra università, oltre che tra team di studenti. Eh beh, si sa che comunque questo fa sempre del bene alla fine, cioè la competizione produce risultati. Per voi è stato così? Bene, l'azienda, sì. Guardi, onestamente, dal momento della premiazione ad oggi, non solo il prodotto, come avevamo già detto, durante la fase di premiazione era stato già venduto, ma un nostro cliente negli Stati Uniti ci ha chiesto un'ulteriore evoluzione del prodotto molto particolare, che noi abbiamo già eseguito e che stiamo proponendo sul mercato. Quindi per noi il progetto mi imprendo è stato un grandissimo successo e speriamo che ci sia anche un grandissimo successo poi commerciale, ma sembrerebbe che le risposte siano veramente molto interessanti. E i ragazzi sono rimasti con voi? Qualcuno è rimasto con voi? Dunque ragazzi, prima di tutto devo fargli gli auguri perché so che tutti si stanno più o meno laureando, a qualcuno manca un esame, a qualcun altro due e così via, quindi spero che presto termineranno. Sappiamo di sicuro che una persona farà la tesi con noi perché il progetto ha lasciato delle domande che qualcuno probabilmente continuerà per cercare di risolvere, di rispondere a queste domande. Quindi avremo sicuramente una persona che farà la tesi con noi, poi dopo la tesi vedremo, non dipende solo da noi. Assolutamente. So che tra l'altro lei prima parlava, ha accennato al fatto che avete rivoluzionato la vostra impresa, prima ci siamo minimo confrontati sull'azienda, vi parlava di una rivoluzione vera e propria anche nel mercato di riferimento, nel giro di pochissimo, cioè questa crisi vi ha cambiato il volto? Diciamo che siamo stati costretti molto velocemente a cambiare, noi avevamo l'80% del fatturato in Italia a metà del 2011, all'inizio del 2012 durante il management interview si è deciso, tutti i managers abbiamo deciso di rivolgersi al mercato internazionale, cambiando tutto, i processi, i prodotti, di cui questo è un po' la punta di diamante, ma però sotto c'è una base molto importante su cui abbiamo lavorato, sia sui prodotti che sui processi aziendali e con quest'anno arriveremo a circa il 70% di esportazioni, quindi un cambiamento dall'80% Italia al 70% all'estero in un poco più di due anni. Senza mi imprende Italia, questo progetto che state sviluppando e che vi sta portando anche a nuovi mercati, che fine avrebbe fatto? Temo che sarebbe rimasto un po' nel cassetto, perché le competenze necessarie, ripeto, erano importanti, noi all'interno abbiamo certe competenze, ma non compriamo tutte queste competenze, soprattutto sulla fluidodinamica e sulla parte elettronica, e questo ci ha permesso di conoscere appunto dei ragazzi che, adesso senza anticipare nulla, però insomma speriamo che poi non si allontanino troppo dal mondo fe, ma ecco, questo è un po'. Senta, abbiamo capito bene cosa i ragazzi hanno portato all'azienda, quello che l'azienda ha portato loro secondo lei cos'è? Cioè come li avete accolti? Perché lei stesso ha detto, noi non siamo un'azienda molto grande, 35 dipendenti mi sembra siete, quindi avete anche dovuto ricavare degli spazi, dei momenti per loro. Sì, diciamo che abbiamo organizzato un certo percorso, una prima fase, il primo mese, mese e mezzo, abbiamo fatto degli incontri con loro in azienda, dove abbiamo fatto dei training, perché abbiamo dovuto introdurre i prodotti, e dove abbiamo lavorato insieme a loro sul prodotto, quindi con le loro idee, devo dire che sono stati anche molto bravi, hanno impressionato tutti e tutti anche gli altri partecipanti a questi brainstorming. Poi nella seconda fase invece ovviamente abbiamo utilizzato molto di più il tutor, cioè il professor Malavasi, dove loro chiaramente hanno lavorato più all'interno delle università con lui, e dove hanno sviluppato tutta la parte più teorica con i risultati finali che poi hanno presentato. Ed è in queste due fasi qua, diciamo che c'è stato un discorso che secondo me è molto importante per il tipo di progetto che mi imprendo, che in una prima fase è stata l'azienda che è trascinatrice dei ragazzi all'interno del mondo del lavoro, eccetera, e in una seconda fase, la fase finale, sono stati veramente bravi loro, insomma, mi telefonavano anche ore tipo 11 di notte, di sera, per dirmi che avevano caricato sulla piattaforma, mi imprendo tutti i documenti, eccetera, insomma sono stati bravi, l'entusiasmo si è visto, poi va bene, poi avendo vinto ovviamente... Ci è visto davvero, l'ha recepito anche la giuria, effettivamente questo entusiasmo e l'impegno probabilmente che è stato profuso per arrivare a questo risultato così importante. Spesso parliamo del fatto che bisogna finanziare la ricerca, bisogna sostenere l'università, bisogna credere in questi ragazzi e anche finanziare questo tipo di attività universitaria, dell'attività di ricerca ovviamente, questo che ha detto lei rende molto chiaramente quanto si potrebbe fare di più anche dal punto di vista dell'impresa italiana sostenendo progetti come questo. Sì, il problema dei finanziamenti è un problema che sappiamo tutti è abbastanza delicato, devo dire che ultimamente io ho notato comunque una discreta propensione a ricevere questi investimenti, però devo dire che non sono investimenti che arrivano dallo Stato così, cioè l'azienda si rivolge alle banche, noi abbiamo proposto un nostro piano triennale di sviluppo, le banche hanno accettato e quindi abbiamo avuto questi finanziamenti che ci permetteranno nel triennio 2014-2016 investimenti importanti proprio nella fase di ricerca, cioè ho chiesto proprio un investimento per la ricerca sul prodotto, sui processi e sulla parte produttiva. Ha chiesto alle banche un finanziamento, questo è un capitolo del credito all'impresa sostanzialmente, un altro capitolo complicato, però vede che se ci sono delle cose concrete, dei progetti di sviluppo concreti, i finanziamenti alla fine, lei stessa l'ha detto, sono arrivati? Sì, sono arrivati, non siamo così avvantaggiati come le aziende tedesche in termini di pagamenti della pubblica amministrazione, ma anche dei creditori in genere. Esatto, però l'importante è avere queste possibilità di sviluppare le aziende. Certo, assolutamente, però anche per un'azienda non grande poter contare anche sull'università come catalizzatore di alcuni progetti aziendali penso sia un'opportunità molto bella. Assolutamente. Ecco, mi diceva che tra l'altro per la vostra azienda, pur non essendo molto grande, però ad alto contenuto tecnologico, il rapporto con l'università è abbastanza frequente. Sì, assolutamente. Noi ci siamo sempre rivolti all'università, però in un'altra area, dove ci siamo rivolti per il progetto Mi Imprendo. Adesso invece stiamo sviluppando proprio insieme al Politecnico un'idea di lavoro continuativo. Cioè, quindi è ancora in embrione, ma l'idea è quella di lavorare con continuità e non a spot. Proprio per dare una continuità a questa ricerca, dove questi prodotti abbastanza complessi richiedono una ricerca a livello universitario. E soprattutto le competenze, che ci sono tante le competenze all'interno della città. Senti, aspettate il prossimo Mi Imprendo a questo punto. Beh, il prossimo Mi Imprendo è impegnativo. Diciamo che nel cassetto abbiamo un paio di progetti che sarebbero interessanti. Uno, già in fase di definizione, diciamo, di idee abbastanza avanzato, dove probabilmente avremmo un brevetto. Un secondo, invece, è ancora in embrione. Dobbiamo fare delle valutazioni commerciali, per vedere se effettivamente conviene o non conviene. Sarebbero due progetti adatti al Mi Imprendo. Bisogna vedere se noi siamo in grado adesso, perché dobbiamo continuare questo progetto qua. Stiamo costruendo attrezzature speciali per fare delle prove particolari. Ci entra, quindi siamo abbastanza impegnati. Poi dobbiamo anche fare un po' di produzione, sa, non è che... E quindi, però ci sarebbero i progetti, se riusciamo, ben volentieri. Almeno uno quasi sicuro. Grazie a Pierangelo Scaglia, General Manager di FEMA, per essere stato con noi questa mattina. E finalmente, nel prossimo pezzo della nostra puntata, conosciamo Giulia Castrucci, che è la vincitrice con il suo team di Mi Imprendo Italia 2013. E allora, tra poco.